Prima di lanciare il suo messaggio agli studenti dell'Università di Salerno, dove ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico, il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao si è soffermato sugli equilibri criminali campani che negli ultimi giorni hanno fatto registrare il pentimento di Walter Schiavone, secondo genito del capoclan dei casalesi Sandocan. Una collaborazione è sempre la dimostrazione della capacità della repressione di piegare le organizzazioni criminali, ma al tempo stesso credo che una grande collaborazione sarebbe quella di Francesco Schiavone Sandocan e quella la collaborazione che probabilmente darebbe un volto nuovo anche alla ricostruzione di tantissimi fatti e delle collusioni economiche e politiche di cui ha potuto godere il clan dei casalesi nel periodo di maggiore luminosità. Ma nel Salernitano, terra di Angelo Vassallo, De Rao ha parlato anche dell'inchiesta legata all'omicidio del sindaco Pescatore. Lo sviluppo delle indagini che non si era fermato con il procuratore Roberti e proseguito successivamente oggi con Borrelli e Colamonici continua ad avere uno sviluppo particolarmente significativo, per cui come sempre anche in questo caso sono ottimista sui risultati. Sugli equilibri politico-economici invece si è soffermato l'ex ministro Marco Minniti che ha ribadito l'importanza del Mediterraneo. Il rapporto tra Italia, Europa ed Africa è un rapporto cruciale. Da questo punto di vista un'università che si colloca al centro del Mediterraneo, anche geograficamente, ha un ruolo straordinario.